Ciao, sono Domenico, sono di Torino, sono un artigiano, un tecnico meccanico e sono qui in SOS Moldavia per curarmi i denti. Ho scoperto SOS Moldavia dopo delle ricerche su internet, attraverso Facebook ho conosciuto tutto lo staff e mi sono fatto coraggio e ho iniziato questa avventura. Mi piace l'ambiente, è molto familiare, ti curano, ti coccolano, ti fanno sentire veramente curati, si occupano del tuo problema quando hai dei problemi abbastanza importanti. Sono venuto qui perché avevo problemi seri di nutrimento, più che altro non riuscivo più a masticare perché avevo problemi con i sesti, i settimi e quindi non riuscivo più a masticare. Dovevo sempre selezionare quello che dovevo mangiare perché se fossero state tipo una bella bistecca non potevo più mangiarla perché non riuscivo più a masticare. Allora quello mi ha portato ad avere dei grossi e seri problemi. Così mi sono armato di buona volontà e sono partito alla scoperta di SOS Moldavia, il policlinico gestito da delle belle persone che si sono presi cura di me sotto tutti i punti di vista, anche perché poi quando arrivi qui ti danno tutta l'assistenza necessaria per poter soggiornare dagli appartamenti, dal vivere, dal mangiare, dagli trasporti, dalle gite, comunque non sei proprio, non puoi dire vengo qui in un paese straniero e non conosco nessuno, non parlo nessuno italiano, no. Qui la maggior parte, al 90% parlano tutti italiano e sono convinto che comunque chi viene avrà la possibilità di trovare delle buone cure anche se sei in un paese straniero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.